dell'ingegner Punzo è il fondatore e quindi ci racconterà queste cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è una serie di foto che vedono un po' la nostra storia. Questa è la prima generazione, quella con gli occhiali di mio padre, che ha iniziato nel 1973 con l'azienda, fa altre cose in quel caso lì, eravamo proprio in Boeing a Seattle dove hanno incominciato a fare le attività nel lontano 1973. Una concomitanza felice, l'anno prossimo l'aeronautica compie 100 anni, noi compiamo 50 anni, quindi è una strada che stiamo percorrendo, abbiamo fatto un po' di strada insieme da questo punto di vista. bloccherei un attimo per farvi vedere un po' lo sviluppo che c'è stato. Io ho tentato di spiegare un po' la nostra storia con una slide. Partiamo nel 1973, oggi siamo al 22, questa è la nostra storia. Ci sono delle milestone che abbiamo tentato di sviluppare e andando praticamente anche a far verificare un po' la nostra crescita dal punto di vista del personale e del fatturato. Diciamo la nostra storia inizia nel 1973, la prima milestone naturalmente alla fondazione, da parte di mio padre Gabriele, il quale lavorava in l'epoca Airitalia, quindi in effetti era un operaio dell'Airitalia e ha deciso di mettere su una piccola officina meccanica, perché in quel periodo molto probabilmente pochi sanno che in quegli anni c'era una grossissima richiesta di lavorazioni meccaniche per l'aeronautica Airitalia, in particolare grazie alle commesse aeronautiche che venivano dall'America, era fortemente satura di lavorazioni e quindi in quel momento sono nate una miriade di piccole aziende meccaniche aeronautiche, nel casertano come nel napoletano. Quindi papà ha cavalcato l'onda e nel 1973 ha fondato l'azienda. Cosa facevamo in quel periodo? Io lì ho scritto strategia, però vi posso assicurare che di strategia ce n'era ben poca, alla fine bisognava soltanto fare parti, componenti metallici, meccanici, che poi venivano consegnati all'allora Airitalia che montava su assimi più importanti. Diciamo in effetti che i ragazzi, noi parliamo la stessa lingua, sono napoletano, all'epoca si diceva scorticavamo ferro, perché in effetti non c'era in qualche modo le tecnologie che ci sono oggi, ma c'era molta attività tipo manuale e competenze tipo manuale. Come potete vedere gli investimenti quindi erano in meccanica contotersi, nel senso che praticamente non c'era nemmeno la necessità di comprare materiali, ma il nostro cliente ci mandava i materiali, noi lavoravamo e davamo un prodotto finito allo stesso cliente. Non c'era una progettazione, non c'era una qualità, perché in grosso modo la qualità viene mandata in ogni caso al cliente finale. Nel 89 sono entrato in azienda, quindi praticamente la seconda generazione, e abbiamo iniziato praticamente a introdurre quelle che erano le tecnologie di punto dell'epoca, in particolare le macchine a controllo numerico. Penso che venivano tutti quanti dai suoi tecnici, quindi sapete benissimo che la macchina a controllo numerico ha fatto la differenza, perché rispetto a prima dove le macchine si muovevano con la manualità della persona, adesso era un calcolatore che debitamente programmato, quindi le competenze sono salite verso la parte della programmazione, debitamente programmate, riuscivano a far muovere tre o cinque assi, secondo la complessità delle macchine, fino a realizzare un prodotto finito a disegno. E noi nel 89 abbiamo portato le prime macchine a controllo numerico all'interno dell'azienda. Naturalmente questo tipo di cosa ha comportato anche un discorso di qualifica, quindi abbiamo potuto qualificare l'azienda secondo le norme ISO che in quel periodo si stavano affacciando anche nel settore aeronautico. Questa storia che potete vedere naturalmente ha avuto una serie di tappe che sono tutte legate, molto legate agli investimenti, perché naturalmente per poter portare a casa queste innovazioni, queste tecnologie c'è bisogno di fare investimenti. Noi abbiamo sempre creduto nel nostro lavoro e nel futuro della nostra azienda. Siamo partiti nel 73, io qualche anno fa, proprio in funzione un po' della nostra storia e quello che festeggiamo l'anno prossimo, abbiamo cercato di trovare un po' di documenti, come diceva anche prima il dottore che è stato qui prima a relazionare. E ho visto che praticamente noi avevamo 7-8 dipendenti che lavoravano nel 73. Oggi siamo arrivati a essere circa 150 in un sito che non è più quello storico dove siamo nati a Napoli ma adesso in effetti a Cicerale. Volevo dare soltanto alcune pillole specifiche della nostra crescita. Diciamo in effetti che la crescita più importante è data dall'ingresso delle generazioni in azienda. Ho detto che sono entrato nel 89, io come seconda generazione e qualche anno dopo sono entrati anche i miei fratelli, oggi noi siamo un'azienda familiare. La terza generazione è entrata invece in azienda nel 2017 e nel 2017 abbiamo cercato di darci una gestione diversa, più industriale, tant'è che a un certo punto abbiamo iniziato ad aumentare anche quella che noi chiamiamo massa critica perché potete immaginare un'azienda aeronautica ha necessità di avere dei numeri per poter fare aeronautica. I componenti vanno in qualche modo progettati, realizzati, testati e certificati. Oggi la nostra azienda parte da un flusso logico dove partiamo dal materiale, quindi acquistiamo e gestiamo i materiali fino alla certificazione del prodotto. Per chi è avvezzo alle normative, noi oggi siamo, secondo le normative ASA, sia POA, quindi azienda certificata per la produzione aeronautica, riconosciuta da ASA, e siamo anche DOA, praticamente un'azienda che è riconosciuta per la progettazione di assiemi aeronautici. Questo cosa consente? Consente di avere una responsabilità naturalmente perché sono parti che volano, quindi c'è una responsabilità intinzica, ma al tempo stesso abbiamo delle positività legate al fatto che naturalmente quello che progettiamo realizziamo al nostro interno e quindi portiamo attività al nostro interno. Questa è un po' la nostra storia e diciamo in effetti volevo dare anche molto enfasi al fatto che grazie a questa storia, che penso in effetti in qualche modo sia di successo, noi abbiamo portato sul territorio la possibilità di gestire, di far vivere, di avere un futuro a un certo numero di risorse. Oggi siamo 150, potete vedere la crescita esponenziale che abbiamo avuto sia del fatturato ma anche delle risorse. Dico questo perché vedo molti giovani, io penso in effetti che il nostro futuro non può prescindere dalla vostra gioventù e dalla vostra voglia di fare. Diciamo in effetti a me hanno insegnato che le radici non si dimenticano, quindi benvenga un po' tutta la storia che abbiamo visto e in qualche modo è la parte fondante, secondo me, di una persona. Quindi da questo punto di vista bisogna capire quali sono le direzioni, ma è necessario al tempo stesso, e secondo me è la cosa più importante, avere la forza e il vigore di voi giovani. Quindi io dico sempre che al nostro interno, quando parlo con i miei ragazzi, noi abbiamo un'età media molto bassa, quindi posso consentire di dire ai miei ragazzi, io faccio un paragone, faccio il paragone con il classico albero. In effetti oggi come oggi la nostra azienda è una pianta che deve essere naturalmente forte alle radici, perché deve fare in modo di non essere esposto alle condizioni ambientali che potrebbero in qualche modo farla andare via e sradicarla. Quindi forte le radici, le nostre radici dovrebbero essere ben conoscenze di tutti quanti noi, ma al tempo stesso deve essere pronto ad andare verso l'alto, quindi gemmare, andare verso l'alto, e questo lo può fare soltanto il vostro vigore, la vostra forza. Quindi io vorrei completare, per non tediare più ulteriormente in questo, come testimonianza. fate tesoro di quelle che sono in effetti le esperienze, la tradizione che ritroviamo nel nostro territorio, Caserta abbiamo visto prima, ma la stessa Napoletano, ha delle tradizioni in aeronautica che sono veramente molto molto importanti e che hanno consentito di allargare poi le competenze tecniche a tutti gli altri settori. Voi avete in effetti in qualche modo delle tradizioni veramente molto importanti. Dovete sviluppare ora il vostro futuro. Il futuro naturalmente nel mondo digitale, non c'è che dire che da questo punto di vista noi ci stiamo preparando a un futuro completamente digitale. Voi avete una peculiarità rispetto diciamo alle nostre generazioni. Voi siete nati già digitali, quindi avete delle competenze, delle conoscenze e delle mentalità, io direi proprio mentalità, troppo meno diversa dalle nostre. Probabilmente con le competenze in effetti storiche che abbiamo, con la nostra forza innovativa, potremmo in effetti scrivere ancora il nostro futuro, che poi sarà il vostro futuro. Quindi io mi congedo nel augurarvi naturalmente di poter andare avanti e di continuare nel vostro percorso, sempre tenendo presente questo tipo di messaggio. Grazie. Volevo soltanto vedere se eventualmente c'è qualche ragazzo che vuole fare qualche domanda, facciamo andare avanti un po' le foto giusto per chiudere un po' il tutto, però mi sarebbe piacere avere un'interlocuzione da questo punto di vista. Se qualcuno vuole farmi qualche domanda, io sono a vostra disposizione. Non siate timidi. Se posso, abbiamo previsto una sessione di domande, vorrei parlare il colonnello e poi io, anch'io, invito i ragazzi a fare domande sia all'ingegnere Ponzo che ci ha dato una bella dimostrazione di come una, diciamo, industria possa crescere grazie alla lungimiranza, grazie alla dedizione e alla capacità di vedere oltre e anche alla capacità di prendere il rischio e di investire. È una, diciamo, industria del mezzogiorno, fra virgolette, però è un'industria che è veramente proiettata al futuro. È un esempio, in Campania ce ne stanno tante di queste industrie nel settore aeronautico e mi dispiace che in questa, diciamo, in questo convegno non abbiamo potuto fare di più. Lo faremo in futuro con il distretto aerospaziale campano. Comunque, questo è un esempio. Si è parlato della, lei ha parlato della storia, della società, ma ha parlato anche dell'evoluzione della società e dell'innovazione dovuta alla tecnologia e quindi questa è una cosa importante che i ragazzi è bene che sappiano. E ha parlato anche della necessità di fare massa, che è un altro concetto che, secondo me, i ragazzi è bene che sappiano. In campo aeronautico bisogna fare, diciamo, bisogna poter investire, però poter, come dire, recuperare gli investimenti con una produzione che sia sufficientemente elevata. E l'altro aspetto, lei ha parlato di design authority, cioè della capacità di poter progettare e prendere la responsabilità della progettazione. La responsabilità significa che garantire che il velivolo o la parte di velivolo progettata dalla società abbia tutte le caratteristiche di sicurezza che sono previste dalle normative e quindi le caratteristiche di sicurezza che ci permettono di volare, come adesso, con un ratio di incidente molto, molto, molto basso. Per fare un esempio, io chiedo scusa, approfitto di questa, diciamo, di questa parentesi. Facciamo l'esempio con il Covid e con i vaccini. I vaccini ci dice, ci dicono, diciamo, le informazioni che hanno dimostrato di avere, diciamo, un effetto catastrofico, un effetto negativo ogni centomila, centomila vaccini fatti. Volare adesso ha un livello di sicurezza che è due ordini di grandezza più importante di quello dei vaccini, cioè i componenti aeronautici debbono essere progettati perché mantengano un livello di sicurezza che si misura in numero di eventi catastrofici per migliaia o milioni o miliardi di ore di volo. Ecco, in questo caso, i ragazzi potranno fare i conti, il livello di sicurezza è di un evento catastrofico ogni 10 milioni di ore di volo. Allora, uno su centomila, uno su dieci milioni. Quindi questo è il livello di sicurezza. E la società in questo caso, ma tutte le società che lavorano in questo caso e che hanno la certificazione che viene data dalla Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici, Armerio, che io a suo tempo, tanti anni fa, ho diretto, ecco, queste società hanno la capacità di far volare gli aerei in sicurezza praticamente totale. Infatti, diciamo, sul giornale si sa subito quando c'è un incidente, no? E non ce ne stanno, ce ne stanno pochissimo. Ok, grazie. Lascio la parola ovviamente al moderatore. Chiedo scusa per l'intervento.